Ciao a tutti, io sono Andrea Fantini, lui è Jacques-Louis Muriot. Quest'anno abbiamo intrapreso insieme questo progetto di veloce anica che ci vedrà impegnati in tre regate. La prima è partenza dalle Sabdolone, arrivo alle Azzorra e ritorno alle Sabdolone. La seconda sarà il Fasnet, una regata mitica in Inghilterra e la terza è una regata transatlantica, la Transatribub, che parte dalla Francia e arriverà ai Caraibi in Martinica. A sostenerci sarà l'azienda Guidi, che sarà il nostro sponsor per questo progetto, siamo molto felici. e adesso passo la parola a Charles, che è lo skipper della barca, e si presenterà. Ciao, mio nome è Charles-Louis Muriot e sono il skipper, Andrea Fantini è il mio co-skipper. e siamo molto orgogliosi di presentare questo progetto con Guidi, che siamo molto orgogliosi di portare i colori. Quindi, siamo arrivati l'anima settimana di off-shore racing, che sarà il Sabdolone, che viene da Vendè, Francia, e si arriva all'Azzorra e tornare alla Francia. e poi la Fasnet, che è una rata mitica in Irlanda. e l'ultima è la Transat Jacques Vab, che va all'Azzorra, che va all'Azzorra. Siamo molto orgogliosi di essere aiutati e di portare i colori. È una buona company, delle persone molto belle, e delle servizie qualitativi. e quindi, per favore uscire. E, per favore Guidi.